Il censimento permanente della popolazione rappresenta un'operazione di grande innovazione metodologica, tecnologica e organizzativa messa in campo dalla statistica ufficiale italiana allo scopo di aumentare il livello quantitativo e qualitativo dell'informazione statistica a supporto delle politiche del mondo della ricerca e della conoscenza per i cittadini. Il carattere innovativo consiste principalmente nel riuso della gran massa di dati amministrativi in possesso della pubblica amministrazione e questo consente di ridurre al minimo la dimensione delle indagini dirette che coinvolgono i cittadini. Inoltre questo consente anche risparmi notevoli dell'ordine di centinaia di milioni di euro rispetto alla tradizionale operazione censuaria che avveniva precedentemente a carattere decennale. Un ulteriore aspetto è dato dalla cadenza annuale di questa operazione e quindi rispetto al passato ci sarà un aumento della frequenza di dati e indicatori a disposizione della collettività per capire la struttura, l'evoluzione dei comportamenti della popolazione.